E parliamo di sicurezza stradale. Cittadini in movimento per la statale Basentana. Un'associazione di Salandra promuove una petizione per mettere in sicurezza il tratto tra Calciano e Metaponto. Luigi Di Lauro. Da Calciano a Metaponto senza spartitraffico centrale. E' una delle criticità più evidenti della statale 407 Basentana. Tre morti solo nel 2016, poco lontano dallo svincolo di Grassano. Una situazione ritenuta intollerabile dall'associazione di volontariato culturale Ippazia di Salandra che ha promosso una raccolta di firme per una petizione popolare per chiedere di mettere in sicurezza quel tratto di strada. Noi ci siamo fatti promotori di questa petizione per far sì che l'ANAS, la Regione e anche il Comune mettano in atto tutte le strategie per mettere in sicurezza questo tratto di strada per permettere anche a chi qui ci lavora di poter lavorare in tranquillità. Chi amministra questa Regione si è interessato al problema? Chi amministra ci ha manifestato una propria vicinanza ma solo nella persona del consigliere Cifarelli, capogruppo, che in una lettera all'epoca assessore alle infrastrutture berlinguer sollecitava proprio la nostra iniziativa. Altro non è successo se non fino alla sollecitazione dell'onorevole Matarrese, quindi l'onorevole pugliese con un'interrogazione parlamentare ha sollecitato il Ministro del Rio a mettere in atto tutte le attività e le iniziative per mettere in sicurezza la base intana. Auspichiamo appunto che ci sia un intervento trasversale di tutte le forze politiche e istituzionali in merito. Lo diciamo perché appunto è da tempo che ci stiamo adoperando affinché le massime istituzioni diciamo convergano su questa tipologia di problematica. Problema che va comunque risolto perché per esempio voi che avete dei terreni dall'altro lato della strada avete comunque la difficoltà per passare? Sicuramente sì perché io purtroppo ogni giorno attraverso la base intana minimo 20 volte al giorno sotto e sopra e quindi essere in sicurezza per me è una cosa buona.